direi che possiamo iniziare, quest'oggi c'è con noi il collega Matteo Boldrin al quale lascio la parola per la presentazione di questo nuovo prodotto vai Matteo grazie Andrea, intanto mi dai un feedback che mi senti bene sì, benissimo ottimo, molto bene bene, buongiorno anche da parte mia, io per chi non mi conosce sono Matteo Boldrin se si ingegner per il mercato retail Italia di Zebra mi occupo di tutti i progetti di innovazione tecnologica nel mercato sia food che non food quindi mercato food con rinnovamento barriera casse con l'MP7000 i progetti di size scanning con il PS20 dispositivi da magazzino, dispositivi da punto vendita mentre sul non food invece grande focus sul tecnologia RFID e ovviamente dispositivi stampanti e scanner e ovviamente soluzioni di comunicazioni, task management, analisi predittive eccetera oggi siamo qui per parlare del, come vedete dalla grafica, del VS50 è stato lanciato, l'avrete visto, nei social il lunedì 28 marzo durante la fiera Modex ad Atlanta una delle fiere più importanti per la supply chain e appunto è il più piccolo, come vedete, il più piccolo dispositivo wearable Android presente sul mercato Enterprise già da questa prima slide vedete di cosa stiamo parlando quindi stiamo parlando di un dispositivo con un display contenuto a due pollici un sistema operativo Android che può essere con diverse possibilità per essere indossato quindi a ditto, a braccio, a polso e sul dorso della mano adesso entriamo, prima di svelarvi tutto entriamo nell'agenda di oggi che copre appunto quella che è quelle che sono le sfide quelle che sono i motivi per i quali Zebra ha introdotto questo ennesimo game changer questo ennesimo prodotto che va a collocarsi in un environment di prodotti per quanto riguarda le soluzioni wearable già fitto andremo a vedere quali sono i mercati verticali e i vari casi d'uso che fittano questo dispositivo i benefici unici di questa soluzione un'analisi, un approfondimento tecnico quindi sulle specifiche che vanno a comporre il VS50 e poi ovviamente mobility DNA andiamo a vedere quali applicazioni della mobility DNA sono contenute in questo dispositivo per molti di voi questa slide dovrebbe essere familiare questa è la nostra proposta per il mercato dei dispositivi mobili vediamo se riesco ad accedere al puntatore eccolo qua, bene abbiamo i dispositivi Enterprise Companion Device quindi quei dispositivi pensati per essere dati ad uso personale dei vari operatori su questi ovviamente spicca l'IC50 da un formato molto smartphone like con lo scanner integrato poi ovviamente dispositivo per il cell scanning il PS20 tutta la linea di tablet dai tablet legacy di Zebra e T5156 passando per la linea Explore arrivando fino all'ET80-85 e anche qui grosso focus dell'azienda per cui rimanete connessi sul nostro canale YouTube perché anche qui vedrete presto novità importanti sul mondo del tablet di cui ovviamente non possiamo parlare oggi poi la linea dei TC la linea dei TC20 in questo caso TC21-26 la linea 50 quindi siamo arrivati alla 52AX con il Wi-Fi 6 e il nuovo Scan Engine 5005 i dispositivi da magazzino ovviamente la linea Healthcare e oggi invece parliamo i veicolari che vedete qui e ovviamente oggi si parla di WS50 che quindi va a collocarsi in quella che è l'offerta dei dispositivi e delle soluzioni wearable cioè indossabili che annoverano il WT6003 che WT sta per Wearable Terminal 6003 disponibile in modalità full touch con tasti programmabili piuttosto che con tastiera fisica e tasti programmabili al quale si possono connettere ovviamente scanner ring scanner quindi scanner ad anello per il WT6003 c'è disponibile anche lo scanner ad anello cablato quindi senza l'ausilio di una batteria oppure ovviamente il nuovo RS5100 quindi scanner Bluetooth ad un dito che può essere ovviamente collegato Bluetooth su questo dispositivo o anche su dispositivi general purpose come TC21 o TC52 e poi abbiamo gli occhiali il head display HD 4000 che anche questi ne abbiamo già parlato in passato un'altra grande novità di Zebra che permette appunto di proiettare sul campo visivo dell'operatore le informazioni importanti salienti del display del terminale questo permette all'operatore di poter lavorare in continuità senza continuamente switchare tra il proprio campo visivo nell'ambito lavorativo front scaffale e terminale a questo appunto si aggiunge il VS50 che è il dispositivo di cui parliamo oggi di cui c'è stato appunto un grande clamore nella Fiera Modex di lunedì di lunedì scorso ad Atlanta e di cui parliamo appunto oggi prima di entrare nel merito nello specifico come ogni prodotto come ogni soluzione di Zebra nasce da un da una richiesta da un need da un bisogno o da più bisogni o più sfide che il cliente deve affrontare tutto parte ovviamente dal concetto di produttività dal concetto di efficienza e l'importante è sempre quello di cercare di capire quali sono i costi nascosti sappiamo bene che la mancanza di informazioni l'accesso difficoltoso alle informazioni da parte di un operatore quindi la mancanza di comunicazione genera improduttività genera inefficienza e quindi per andare a scovare queste inefficienze è sufficiente chiedere ad un cliente come gli operatori hanno accesso alle informazioni come gli vengono assegnate delle attività come il supervisore è a conoscenza di quelle attività l'operatore sta svolgendo e più in generale come avviene la comunicazione tra vari operatori che siano di punto vendita di magazzino o comunque di un contesto lavorativo è chiaro che in un mondo ideale poter fornire ad ogni operatore un dispositivo e quindi abbattere la barriera che oggi c'è di comunicazione tra tanti operatori sarebbe l'ideale chiaramente questo molto spesso talvolta è frenato da quelli che sono degli ostacoli delle barriere vuoi che sia il costo affidare e dare un dispositivo 5 pollici che è un po' lo standard attuale ad ogni operatore può costituire un costo e se andiamo a guardare la soluzione wearable quindi indossabile si parla sempre di due dispositivi quindi uno scanner ad anello e un dispositivo da indossare a braccio come abbiamo visto prima può essere un VT può essere la linea TC può essere un dispositivo di terze parti può essere uno smartphone comunque se ha bisogno di due dispositivi questo genera un costo perché due dispositivi vogliono dire anche due batterie da gestire due linee di accessori due contratti di manutenzione quindi c'è una complessità in questo che talvolta non la si vuole quando magari il caso d'uso che dobbiamo andare a coprire è molto verticale è molto specifico a questo va ad aggiungersi anche il training che l'utilizzo di un dispositivo mobile full touch come può essere questo o tanti altri che Zebra e altri brand hanno a disposizione necessita di un training per gli operatori quindi ecco questi sono un po' i motivi che frenano l'adozione massiva dei dispositivi ad uso aziendale per tutti gli operatori ovviamente Zebra ha pensato a questo e ha pensato quindi a un dispositivo nella linea wearable che possa andare a superare questi limiti questi ostacoli ed è appunto per questo che introduce il VS50 quindi il dispositivo che vedete qui qui in alto a destra nella sezione destra è la parte core quindi la parte che vediamo è il dispositivo il VS50 che può essere utilizzato e montato in tre diversi in tre diversi modi dopo lo andiamo a vedere già da questi cerchi qui a sfondo blu potete vedere che parliamo di un dispositivo che può essere indossato ad anello quindi un po' come l'RS i nostri link scanner l'RS507 l'RS6000 che c'è stato l'RS5100 in questo caso parliamo di converged scan oppure che può essere montato sul dorso della mano per quelli che invece hanno bisogno di utilizzare il dispositivo con questo tipo di ergonomia magari perché devono andare a utilizzare con le dita minuterie quindi hanno bisogno di avere le dita più libere quindi preferiscono l'utilizzo sul dorso oppure il terzo metodo il terzo modo di indossarlo è sul wrist quindi parliamo di wrist mount quindi sul polso in questo caso parliamo più di un dispositivo per la comunicazione per la gestione di tasca adesso entriamo più nello specifico andando a presentare queste tre diverse opzioni capendo le differenze i vari casi d'uso che cosa rende il VS50 diverso dal resto diverso dalla competition ma diverso da qualsiasi altra soluzione sicuramente è un dispositivo all in one quindi questo è il primo grande beneficio l'avere un unico dispositivo invece che la tradizionale offerta di soluzione wearable che consiste appunto in due dispositivi è modulare posso utilizzare tra i diversi è flessibile perché posso utilizzare tra i diversi modalità per essere indossato come vediamo qui è il più piccolo dispositivo android lo abbiamo già detto in fase di presentazione ha a bordo android un sistema operativo android 11 a osp quindi lo standard presente oggi sul mercato sul mercato enterprise ovviamente pensiamo che questo dispositivo possa sposarsi bene con tecnologie e soluzioni di comunicazione vedi quindi push to talk vedi soluzioni task management e altra novità assoluta per zebra è l'introduzione del primo dispositivo con display di tipo amoled e non lcd dopo andiamo entriamo magari nello specifico di perché questa scelta di quali sono i vantaggi di un display di tipo amoled da 2 inch quindi ovviamente più piccolo del vt 6003 che è un 3.2 e comunque generalmente degli altri dispositivi full touch che generalmente sono da 5 pollici in su molto importante essendo dispositivo android può essere gestito dai principali mdm quindi pensiamo a sotti pensiamo a airwatch pensiamo a ram per quanto riguarda zebra smartiglio insomma tutti gli mdm che gestiscono dispositivi android saranno in grado di poter gestire questo dispositivo che quindi va in un certo senso a facilitare la gestione da parte della parte tecnica e ultimo ma non meno importante i mobility dna quindi le applicazioni che conosciamo che abbiamo imparato ad utilizzare di cui il nostro collega Alberto Robecchi e Andrea Saran vi hanno parlato molte volte nei vari corsi nei vari training sono presenti parte di questi dopo andiamo a vedere nello specifico sul su questo dispositivo bene qui già vediamo come come si colloca il dispositivo da un punto di vista no ritornando alla vestibilità come lo possiamo lo possiamo indossare si parla di converged e wrist mount parliamo di converged scan due modalità quindi lo scanner ad anello come vediamo sul primo cerchio piuttosto che lo scanner messo in modalità back of hand piuttosto che abbiamo visto invece il dispositivo indossato a polso eccolo qua qui entriamo invece un pochino più nello specifico sulle caratteristiche durabilità batteria eccetera eccetera allora parliamo di converged scan quindi i primi due dispositivi che ripeto per l'ennesima volta so di avervi già stufato ma lo dico perché magari ci può essere qualche dubbio il converged scan quindi il dispositivo con scanner è possibile si può montare in modalità two finger quindi due dita come vedete qui con il trigger qui e oppure in converged scan back of hand quindi sul dorso della mano che utilizza questo accessorio semi guanto che mi permette di utilizzare sia mani vivere sia con guanto il dispositivo entrambi i dispositivi hanno hanno uno scan engine che è il 4770 con l'opzione del del sensore di prossimità per quelle applicazioni tipo triggerless entrambi gestiscono sono pensati per il task management per il push to talk quindi supportano il push to talk grazie a un microfono interno e a un loud speaker e ovviamente essendo dispositivi android con connettività wifi bluetooth NFC come andremo a vedere dopo possono essere anche collegati a cuffie bluetooth che magari in ambienti particolarmente rumorosi si rendono necessari per l'eliminazione del rumore hanno una batteria da 1300 mAh batteria rimovibile tema su cui torniamo dopo che considero fondamentale per un dispositivo wearable che necessita se per qualsiasi motivo la batteria dovesse essere scarica a metà del turno non devo interrompere l'attività ma semplicemente come ci siamo abituati sui nostri dispositivi handheld rimuovo la batteria metto una nuova batteria e quella batteria la metto sul suo sul carica batteria a livello di durabilità parliamo di di ragnes sono un metro ottanta di caduta dall'altezza su cemento ip65 l'unica cosa che cambia tra queste due modalità ovviamente è il trigger come triggerare come attivare lo scanner qui in modalità finger trigger qui in quest'altra modalità invece in modalità back of hand il breeze mount è leggermente diverso prima differenza enorme non ha lo scanner ok mi dite ma quindi se non ha lo scanner come faccio l'acquisizione dei dati allora in questo caso il breeze mount quindi il dispositivo da polso non è pensato per quelle attività di scansione intensiva come può essere magari il picking come può essere la preparazione degli ordini il sorting il put away eccetera eccetera qui è pensato più per attività di task management più per attività di comunicazione più per attività di invio messaggi ricezione messaggi e con una camera da 13 megapixel che mi può permettere di fare un'acquisizione immagini e magari anche un'acquisizione di barcode se ovviamente questa acquisizione di barcode non è il core business dell'attività dell'operatore un po' come avviene con i nostri tablet che abbiamo sia i tablet con scanner integrato penso all'IT51 con scanner integrato o anche i terminali che invece per fare l'acquisizione dati hanno solamente la camera e quindi se ho bisogno di fare un'acquisizione una scansione intensiva o prendo il modello con scanner integrato oppure magari aggiungo l'expansion back o uno scannerino bluetooth per fare questo genere di attività l'altra differenza nella modalità wrist è la batteria batteria da 800 miliampere invece che da 1300 e la caduta che è da un metro e venti invece che da un metro e ottanta bene entriamo invece adesso su quelli che sono i mercati che i verticals che questo dispositivo va a coprire già da questa slide vedete un personale di punto vendita che sta facendo probabilmente il picking di una spesa e-commerce vedete un centro produttivo un magazzino hospitality quindi hotel restaurant eccetera eccetera ecco qui su questa slide potete vedere in maniera molto molto chiara quali sono i casi d'uso in cui questo dispositivo può fare ovviamente la differenza per i motivi che abbiamo visto prima quindi da sinistra a destra abbiamo messo i vertical warehouse transportation logistics manufacturing retail and hospitality soprattutto nel warehouse nel transportation logistics l'uso del converged scan ovviamente quindi della modalità back of hand quindi dorso della mano o scanner ad anello dovrebbe andare per la maggiore perché l'uso della scansione del barcode intensivo avviene per diverse operazioni che sono l'item sorting il receiving put away il carico scarico mettere via un pacco eccetera eccetera quindi fondamentalmente l'operatore che cosa fa va a sparare un barcode ottiene un feedback sul dorso o sulle dita attraverso il display un feedback chiaro se la lettura è avvenuta correttamente se il prodotto è stato depositato nella baia corretta eccetera eccetera grazie anche a un feedback di tipo haptic quindi haptic feedback quindi vibrazioni piuttosto che led notifica piuttosto che audio sono in grado di fornire all'operatore i feedback di cui ha bisogno nel mondo manufacturing retail hospitality invece vediamo un utilizzo anche del wrist quindi il converged scan è sicuramente quando devo andare a fare acquisizione di barcode ma vediamo il wrist per la comunicazione io che vengo dal mondo del retail e opero nel mercato del retail vedo molto bene questo dispositivo come strumento di comunicazione per passare ad esempio le comunicazioni di servizio in modalità push to talk senza passare magari per l'interfono e lasciare alle comunicazioni via interfono le comunicazioni ad interesse del cliente pensiamo ad esempio a un controllo prezzi su una cassa pensiamo alla richiesta di un operatore per le pulizie su una particolare corsia su tutte cose che posso inviare tramite questo questo dispositivo in modalità sia push to talk che di task management così come magari in un ambiente produttivo alla richiesta dell'operatore in linea di fare il replenishment di una materia prima che serve per il lavoro nella catena di montaggio ecco questi sono i casi d'uso principali suddivisi per vertical bene benefici beh le abbiamo già messi in ordine sparso ecco qui li ricapitoliamo il power of one ovvero la potenza l'importanza del del fattore unico del fattore uno è un unico dispositivo da indossare è un unico dispositivo da gestire da configurare pensiamo lo scanner pensiamo al wifi pensiamo agli applicativi un unico dispositivo quindi non più due come nel caso di una soluzione wearable tradizionale una sola batteria da gestire e un solo contratto di manutenzione perché chiaramente ho un unico dispositivo e un unico contratto di manutenzione che mi va a coprire quel dispositivo contrariamente invece a una soluzione più tradizionale che coinvolge un dispositivo indossabile più un ring scan o un dispositivo general purpose più ring scan bene adesso entriamo un po' nello specifico su quelle che sono le i vari i vari pezzi che compongono il dispositivo a livello di data capture abbiamo lo scan engine il 4770 con modulo con scusate con il sensore di prossimità opzionale per appunto quell'applicazione triggerless utilizzato soprattutto in tutte quelle casi d'uso dove la scansione è fondamentale perché c'è una scansione intensiva e quindi si predilige questo tipo di prodotto viceversa abbiamo anche la possibilità di avere una camera da 13 megapixel nel modello a braccio nel modello a polso scusate che permette appunto l'acquisizione di immagini e una light data capture di barcode chiaramente se ho dei barcode di una certa dimensione ben stampati che mi permettono di essere acquisite da una fotocamera e soprattutto io come operatore non lo faccio ogni ora del giorno quindi su un'acquisizione molto molto blande può andar bene il breeze mount e viceversa se magari devo fare scansioni di barcode in movimento magari a bordo di un di un veicolo o magari devo sparare barcode estremamente piccoli o estremamente grandi ecco che allora e soprattutto se devo fare scansioni intensive durante il giorno ecco che questo modello convergent scan sia in modalità back of end che a dita risulterà risulterà la scelta ottimale ecco questa slide mi piace molto perché vabbè si parla di user interface quindi parliamo di interazione operatore dispositivo però mi permette di vedere già più da vicino l'accessorio quelli semi guanto che mi permette di utilizzare il dispositivo in modalità back of end mi permette di parlare del display del due pollici AMOLED quindi un display piccolo contenuto che quindi l'applicazione o le applicazioni che ci girano sopra devono tener conto della dimensione del display quindi fornire all'operatore delle schermate di immediata comprensione dove non ci sia una grossa interazione con il display chiaramente perché altrimenti probabilmente il VS50 non è il dispositivo migliore per un'applicazione che richiede una forte interazione con il display altra cosa importante è il dispositivo il display di tipo AMOLED non LCD come ho detto prima e questo è il primo prodotto che Zebra propone con questa tecnologia qua non c'è un meglio o un peggio tra LCD e AMOLED ognuno ha caratteristiche diverse diciamo che la scelta dell'AMOLED permette di avere una migliore vista con diverse angolature del display quindi mi permette essendo un dispositivo indossabile di poter subito vedere il display informazione contenuta sul display anche senza avere un angolo a 90 gradi quindi posso avere un'immediata visione anche con angolature diverse con il wide angle e in più qui già si nota i tasti programmabili nella versione converged quindi scanner abbiamo due tasti programmabili uno per lato uno di qua e uno dall'altra parte nella versione wrist quindi da polso quindi con camera abbiamo quattro tasti programmabili comunque lo andiamo a vedere dopo questi tasti programmabili ovviamente vengono utilizzati si possono programmare liberamente possono essere utilizzati magari per far partire il push to talk magari per far partire un'applicazione per tornare sulla home per accedere ai settings quindi è assolutamente configurabile ok ecco altre caratteristiche che lo rendono un prodotto su cui l'azienda punta molto ovviamente sono tutta la parte che abbiamo già detto del push to talk della comunicazione grazie allo speaker embeddato grazie al microfono grazie a un tasto dedicato per partire la comunicazione push to talk ma anche e soprattutto ha la possibilità di colligarsi con cuffie bluetooth e quindi appunto non avere problemi dal punto di vista di ambienti rumorosi grazie all'eliminazione del rumore batteria questo è un tema per me davvero importante molto molto che non smetterò mai di sottolineare su un dispositivo enterprise io ritengo fondamentale io ma insomma zebra ritiene fondamentale la batteria che possa essere removibile questo perché ovviamente se sto facendo un'attività e per qualsiasi motivo la batteria non è sufficientemente carica quindi è scarica e non riesco a finire il turno magari perché non era stata caricata precedentemente non ho bisogno di stoppare la mia attività e mettere in carica il dispositivo ma come magari farei con uno smartphone che dovrei fermarmi collegarlo a un cavo e prendere un altro smartphone o attendere che lo smartphone si carichi ma basta togliere la batteria mettere metterla in carica e prendere una nuova batteria questo swap è di tipo hot swap quindi posso ho due minuti affinché il dato rimanga persistente e quindi ho due minuti per sostituire la batteria senza perdere il dato questa è un'altra cosa molto molto importante su un dispositivo soprattutto su un dispositivo wearable abbiamo già detto dei due tagli di batteria da 1300 a 800 a seconda che il dispositivo sia il converged piuttosto che il brist e ovviamente come già detto prima Android che è il sistema operativo ormai standard nel mercato enterprise ha un Android standard Android 11 AOSP a bordo che quindi permette sfruttando l'MDK di Zebra di creare applicazioni senza dover utilizzare un sistema operativo proprietario ecco bene product tour qui trovate quelle che sono le informazioni tecniche del dispositivo che ho già presentato nel corso di questa di queste poche slide le ho presentate per ogni slide ecco qui le vedete tutte unite tutte insieme quindi si parte dal display due pollici che ho detto prima AMOLED ovviamente Gorilla Glass dimensioni e peso e il peso eccolo qua quindi parliamo del dispositivo wrist senza fascia 82 grammi con fascia del crocente 7 grammi mentre il converged quindi il back of end o la modalità in two finger da 127 grammi i tasti programmabili ne abbiamo parlato prima 4 nel caso del wrist 2 nel caso del dispositivo con scanner le notifiche possono avvenire attraverso led possono avvenire attraverso notifiche audio quindi le classiche notifiche audio possono avvenire attraverso l'applicazione stessa o anche attraverso l'active feedback quindi la vibrazione molto utile magari in ambienti rumorosi o dove magari l'operatore ha bisogno non ha bisogno di guardare il display ha bisogno magari solamente di una vibrazione per la conferma positiva e magari di una doppia vibrazione o tripla vibrazione in caso di errore o comunque messaggio che deve attrarre l'attenzione dell'operatore la CPU monta un Qualcomm Snapdragon di tipo Wear taglio di memoria da 1 giga di RAM 8 giga di flash alcuni pezzi della Mobility DNA che andiamo a vedere dopo connettività molto importante Wi-Fi Bluetooth e NFC quindi ritornando al discorso di prima posso facilmente associare accoppiare questo dispositivo pensiamo al converged quindi quello con lo scanner magari con una stampante Zebra Bluetooth piuttosto che con delle cuffie come abbiamo già detto prima e durabilità parliamo di un dispositivo che è un IP65 con due altezze di quadrote diverse 1,20-1,80 della tipologia data capture ne abbiamo già parlato scan engine l'S4770 che già conoscete perché è ampiamente utilizzato sui nostri dispositivi full touch e oppure la camera sensoristica sensori di prossimità motion sensor e sensori di luce ambientale per la calibrazione del display e le due batterie da 800 e da 1300 a seconda del prodotto e soprattutto batteria removibile e hot swappable come abbiamo detto prima qui si vede un attimino come è formato il dispositivo vedete c'è una in questo caso è il two finger mount dove vado a inserire le dita c'è una placca di protezione questa verde e questa nera dove viene alloggiato all'interno il dispositivo e la batteria removibile queste parti sono ovviamente sostituibili se si vuole avere sempre il dispositivo con un effetto da nuovo per quanto invece riguarda il brist quindi il montaggio a polso la base è diversa si attacca a questa fascia in velcro che è regolabile ovviamente qui si inserisce il core quindi il dispositivo e ovviamente la batteria da 800 mAh ecco alcune raccomandazioni ne abbiamo parlato ne ho parlato all'inizio ne ho parlato durante questa presentazione le ho volute mettere giù su una tabella che vi fa che ci aiuta a capire per cosa il VS50 è stato pensato e per cosa invece non è stato pensato quali sono eventualmente le limitazioni di questo dispositivo allora sicuramente è pensato per un uso in cui lo user interface la user interface quindi la comunicazione e il confronto tra operatore e display non è non è così non è così frequente quindi non devo operare non devo passare troppo tempo sul display come magari potrei fare su un TC52 con display da 5 pollici dove posso interagire scrivere lanciare app eccetera eccetera qui è pensato soprattutto per una scansione e un feedback un 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 invio di un messaggio una la verifica di alcune informazioni dei task da compiere accettare o declinare un task assegnare un task ad un operatore a un gruppo di operatori quindi è pensato per questo quindi si dice task management and communication sarà sicuramente uno di quei temi che trainerà molto l'utilizzo di questo dispositivo chiaramente il display da 2 pollici impone una certa attenzione nello sviluppo dell'app quindi sul display ci devono essere informazioni essenziali di rapida consultazione per l'operatore e ovviamente è un dispositivo zebra è un dispositivo rugged e quindi può essere utilizzato anche in ambienti come magazzini centri di distribuzione e zone particolarmente ambienti particolarmente harsh quindi intensi quelli che sono invece i limiti di questo dispositivo sono anche le caratteristiche di questo dispositivo quindi chiaramente se l'applicazione necessita di una grande interazione con il display ovviamente il dispositivo più adatto magari a un dispositivo con un display più generoso quindi va capito bene qual è il caso d'uso va capito bene qual è l'applicazione anche sul numero di applicazioni che girano sul dispositivo abbiamo visto le caratteristiche è un dispositivo che ha un giga di ram per cui è chiaro che deve essere pensato uno due tre casi d'uso specifici in cui andare ad adottare e ad utilizzare questo dispositivo non posso pensare di avere quattro cinque sei applicazioni che girano assieme perché o quattro cinque applicazioni su questo dispositivo perché chiaramente non è attrezzato per far girare assieme queste applicazioni e infine altra nota VoIP il VS50 supporta live duplex quindi push to talk ma non supporta il full duplex quindi applicazioni di tipo VoIP questa è un'altra cosa che appunto va tenuta a mente ricapitolando verifico un attimo se siamo nei tempi sì corro velocemente mancano dieci minuti quindi questa è la panoramica di quella che è oggi la nostra soluzione wearable partendo da sinistra a destra abbiamo il fit for purpose device quindi il VT6003 pensato esclusivamente per l'utilizzo indossabile con il suo accessorio che lo pone sull'avambraccio ovviamente non ha uno scanner integrato quindi va collegato uno scanner cablato come l'RS5000 uno scanner bluetooth come il 5100 oppure c'è la soluzione invece di un display di un dispositivo general purpose come può essere la linea 20 o 50 dei PC anche qui ovviamente si utilizzano un rig scanner come può essere l'RS5100 e ti dà una certa flessibilità perché posso utilizzarlo sia in modalità wearable sia in modalità palmare e invece c'è il US50 di cui abbiamo parlato in questa mezz'oretta assieme che è un single piece solution quindi una soluzione all in one con tre diverse modalità per essere indossato e che ha ovviamente un costo di gestione diverso più basso sa va a sandir delle due soluzioni tradizionali wearable quindi il VT o il TC più l'RS5100 e che appunto sblocca tutta una serie di applicazioni tipo task management e comunicazione tra operatori tra operatore e responsabile che appunto fanno preferire questo dispositivo soprattutto se si cerca di dare a tutti gli operatori un dispositivo che li mette in comunicazione tra di loro bene ultima slide mobility DNA chiaramente per gli stessi motivi che abbiamo visto prima quindi per una memoria limitata all'uso e a un display da due pollici chiaramente ci sono alcune applicazioni della mobility DNA che non sono state inserite mentre molte altre sono state inserite pensiamo le più importanti va bene il Fusion per la gestione del wifi del wifi del dispositivo lo stage now per la configurazione quindi queste sono tutte le feature mobility DNA che sono incluse nel WS io penso le più importanti sono lo stage now il data wedge l'MX l'OMConfig per la gestione VMDN e l'MDK per appunto sviluppare applicazioni Android per questo dispositivo non sono state aggiunte altre applicazioni vuoi perché appunto penso all'enterprise keyboard c'è già una keyboard apposta pensata per questo dispositivo presente sul WS50 e altre applicazioni che non sono state che non sono state incluse lo swipe assist eccetera eccetera infine a livello di accessoristica abbiamo come sempre il doppio approccio carica terminale quindi cradle che può essere da 2 o da 10 slot quindi posso caricare due dispositivi o il cradle da 10 piuttosto che la carica della batteria da 4 o da 20 abbiamo anche il dispositivo Ethernet che mi fa da share cradle quindi 5 più 5 mi carica contemporaneamente 5 dispositivi e 5 spare battery un'altra novità che vedremo sempre più spesso per quei dispositivi che possono essere utilizzati in varie configurazioni in vari fattori forma abbiamo gli shims che sono questi adattatori che mi permettono di fornire l'alimentazione a batterie diverse in questo caso quindi sia quella ad 800.000 ampere che da quella a 1300 che ovviamente hanno dimensioni diverse utilizzando lo stesso accessorio di ricarica quindi c'è questo shims questo adattatore che ha anche un colore diverso a seconda della batteria che deve andare a caricare quindi è molto facile da trovare da capire qual è lo shim corretto quindi colore grigio se non erro per la batteria da 800.000 ampere colore nero per la batteria da 1300 ecco quindi questa è la parte di ricarica infine c'è il cable cap quindi per magari gli sgruppatori o per chi vuole eventualmente caricare il dispositivo in questo modo con il cavo è possibile agganciare sul retro del dispositivo questo cavo e collegarlo a un semplice alimentatore USB o collegarlo a un pc per fare il sync file eccetera eccetera ultime informazioni date converged scan quindi lo scanner in modalità back of hand piuttosto che two fingers è ordinabile da lunedì dal momento in cui è stato lanciato first ship date 28 aprile il brist invece quindi il dispositivo da polso arriverà un pochino più tardi first book date 20 giugno first ship date il mese successivo quindi luglio 20 luglio 2022 bene io ho finito la presentazione abbiamo 5 minuti che mi avrete chiesto per le questione nasole eventualmente per cui ottimo grazie Matteo per la presentazione e allora abbiamo una domanda se la versione disponibile di Android è solo quella non GMS sì assolutamente sì la versione disponibile è la AOSP quindi la Android 11 AOSP non GMS ottimo vedo che non ci sono altre domande per il momento se appunto avete domande fatele pure siamo qui apposta per altri per qualche altro minuto ci sono diversi modelli di alimentatore quattro posizioni come per il TC 75 non sono certo di aver capito la domanda puoi ripetere poi un attimo ripetemela allora ci sono diversi modelli di alimentatore quattro posizioni come per il TC 75 immagino il fatto di avere la carica del dispositivo o la carica delle batterie sullo stesso credo ma ritorniamo appunto sull'accessoristica sì allora queste sono le informazioni che abbiamo al momento chiaramente magari questa la riprendiamo in seguito offline perché andiamo magari a verificare la TAX la Technical Accessory Guide presente sulla Partner Portal però adesso da questa slide capisco che abbiamo la possibilità di caricare il 5 dispositivi e 5 batterie con il credo l'Ethernet oppure terminali da una parte e batterie dall'altra con il credo il doppio o a 10 slot piuttosto che il SAC tra virgolette quindi il carica batterie solo batterie magari ecco se andrei vuoi farti contattare dopo di questa presentazione magari andiamo un pochino a capire meglio qual è la domanda magari faremo follow up con l'Accessory Guide se è già disponibile quindi appunto condivideremo anche queste informazioni poi ci chiedono se in ambito voice speaking collegando una cuffia bluetooth è possibile supportare questa funzione con software di terze parti sì allora il voice speaking dipende dall'applicazione abbiamo visto prima torno alla slide quella eccola qua se l'applicazione non usa un full duplex allora assolutamente è possibile utilizzare questo dispositivo con una cuffia ovviamente altrimenti no quindi la risposta è dipende dall'applicazione ottimo poi se andiamo su una domanda relativa ad Android quindi nasce con Android 11 sì e la versione di Android è aggiornabile e se sì quanti aggiornamenti sono previsti ok in questo momento la versione è Android 11 e solo Android 11 in questo momento ciò non significa che non sia aggiornabile quando sarà disponibile Android 12 13 14 eccetera eccetera ma come sempre questa è una scelta che non dipende da Zebra ma dipende da insomma dal produttore del chipset che in questo caso è Qualcomm e da Google in questo momento non abbiamo ancora informazioni sulle versioni successive alla 11 ottimo non vedo altre domande per il momento ok quindi direi che direi che ci siamo tutto chiaro ottimo grazie Matteo ancora e questo è stato appunto l'ultimo webinar per il mese di marzo seguiranno ad aprire altri webinar su altri argomenti interessanti quindi troverete l'invito a partire dalla prossima settimana anche il webinar di aprile non perdete l'occasione di partecipare grazie a tutti come sempre e seguirà il follow up con la presentazione e le varie informazioni sul nuovo dispositivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a Andrea alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti